Buongiorno a tutti, eseguiamo oggi il primo test termico con la geometria del kimono P modificata. Geometria che ho modificato eliminando lo specchio anteriore e spostando la superficie dello specchio anteriore nella schiena, cioè fondamentalmente la superficie captante dello specchio anteriore l'ho spostata all'interno della geometria del kimono stesso. Questo mi permette di semplificare moltissimo la struttura riducendo le parti in gioco. Oggi è una giornata abbastanza buona, il cielo è pulito, c'è una discreta ventilazione che come vedete sta facendo muovere la geometria. Vediamo qual è la temperatura massima che abbiamo raggiunto all'interno del ricevittore in questo momento e siamo a 192 gradi centigradi. Quindi direi che la geometria sta funzionando molto bene e questa è la strada giusta da percorrere. Ottimo! Vi aggiorno sui prossimi risultati. Buona giornata a tutti e a presto!